Buongiorno, oggi è mercoledì 7 marzo, la segna stampa in breve di video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione. Sarà una giornata all'insegna del cielo nuvoloso, precipitazioni diffuse anche a carattere nevoso su gran parte della nostra regione. Il limite delle nevicate si attesta tra i 700 e i 1000 metri di quota. In regia abbiamo Mohamed Almasmoudi, con il suo aiuto diamo un'occhiata a quello che accade questa mattina intorno alle 6.30 a Villa Bassa. Vedete la neve che resiste nel fondo valle, complici le basse temperature della notte, le nuvole all'orizzonte che ci accompagneranno per gran parte di questo mercoledì di inizio mese. Andiamo a vedere quello che accade in provincia di Bolzano, grazie alla grafica delle esperti meteo, abbiamo come detto nuvole, precipitazioni, temperature minime e massime in linea con i giorni scorsi. Identica condizione, identiche condizioni in provincia di Trento, temperature anche qui in linea con quanto accaduto nelle ultime 24-48 ore, nel capoluogo Trentino la massima dovrebbe raggiungere i 10 gradi. Andiamo a vedere allora quali sono le aperture dei quotidiani locali nazionali che troviamo oggi in edicola. A livello alto tesino il quotidiano Alto Adige, le biciclette finiscono sottoterra, Bolzano in centro arriva un ascensore automatico smart e poi multe salate al casello per chi non paga il pedaggio, un accordo tra 22 e polizia stradale, la contravenzione varia da 85 a 338 euro, non sono pochi, non sono pochi le automobilisti che ogni anno passano la barriera autostradale senza pagare il dovuto. Il Corriere dell'Alto Adige, Salvini tende la mano alle sfope, l'intervista al leader della Lega, non toccheremo l'autonomia, la gente ha punito l'arroganza del Partito Democratico. A livello trentino l'Adige provincia non si cambia, il PAT dice centristi con noi in ottobre torniamo a vincere. Il quotidiano trentino adescava minori sui social, a Trento è stato arrestato un impiegato di 42 anni vittima a un decenne. La notizia che interessa da vicino anche la nostra provincia, legittime le chiusure dei passi dolomitici, il ricorso del comitato dichiarato inammissibile dal TAR. Torniamo in provincia di Bolzano, una notizia incredibile sulla prima pagina del quotidiano in lingua tedesca dolomiten, a Dobbiaco un'automobile è uscita di strada, il suo conducente è rimasto incastrato tra le laniere per interminabili minuti, nessuno si è fermato a prestare soccorso, una quarantina alle automobili transitate, il primo a dare l'allarme è stato un vigile del fuoco volontario. La cronaca economica con inserto VQ, come cambiano le professioni, le professioni che erano maschili adesso diventano di interesse anche da parte delle e donne, quali sono le difficoltà, un approfondimento a pagina 3, 4 e 5. Il quotidiano Tagest Zeitung parla a uno dei vincitori di questa elezione a livello locale, Paul Kölensberger, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle. A livello nazionale, il Corriere della Sera, Movimento 5 Stelle e Lega puntano sulla crisi del Partito Democratico, la cena storica, 4 ore, seduti a un tavolo i rappresentanti della Corea del Nord e della Corea del Sud per cercare di trovare una soluzione alla crisi che ormai prosegue da anni. Di solo 24 ore, a Lega e Movimento 5 Stelle l'Italia dei distretti, Boccia, di Confindustria dice i 5 Stelle non fanno paura, Marchionne abbiamo visto di peggio. Siamo in chiusura, come sempre vi ricordiamo gli appuntamenti da non perdere in provincia di Bolzano, dal 9 all'11 di marzo il Festival del Formaggio a Campo Tures e il 22 di marzo la riapertura della stagione dello Schlosswirt della Forst. È tutto, io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video33. Grazie. Grazie.